Sono una forlivese da tozione, però mi sento ormai una forlivese doc e ho deciso di mettermi in gioco perché voglio che la mia città possa essere una città della quale andare orgogliosi, una città all'altezza delle sfide che ci troviamo ad affrontare oggi che sono sfide globali, cioè dobbiamo avere la capacità di vivere in una forlì che ti permette di essere globale, cioè quindi di essere anche universale pur rimanendo locale. Questo è il motivo principale per cui ho deciso di scendere in campo e mettere tutte le mie energie e anche un po' della mia esperienza a disposizione perché questa forlì possa realmente cambiare. Penso che noi forlivesi sia effettivamente l'unica scelta possibile all'interno del panorama politico attuale che possa realizzare tutto questo. Fino ad oggi purtroppo ci siamo rapportati con la regione a mio avviso in maniera sbagliata. Questo perché? Perché abbiamo fatto prevalere quello che è l'orgoglio forlivese, io così lo voglio definire, cioè il fatto di volersi chiudere e quindi non ragionare invece in termini di sinergia e di collaborazione con gli altri territori. Questo secondo me è invece un'opportunità di sviluppo, cioè il fatto di sapersi rapportare, saper dialogare anche con le altre realtà può essere un'opportunità per la nostra città e come tale deve essere vista. Questo però non vuol dire essere sudditi, tra virgolette, della regione. Cioè cosa significa? Significa non chinare la testa, cioè non abbassarsi, ma portare avanti determinate politiche che possano garantire lo sviluppo del nostro territorio. Quindi andare sui tavoli in regione, se necessario, sbattendo i pugni, ma farlo appunto però sempre in un'ottica di collaborazione e sinergia. Cioè pensando allo sviluppo prima di Forlì, ma non solo di Forlì, anche degli altri territori limitrofi. Perché una visione campanilistica non ci porta da nessuna parte, ma questo vale per Forlì, vale per la regione come vale in generale. Cioè dobbiamo avere la capacità di ragionare secondo un'ottica di più ampio spettro. Questo è quello che sicuramente può migliorare la condizione della nostra città. Sicuramente c'è bisogno di creare delle opportunità per le associazioni sportive. La passata giunta purtroppo non ha avuto la capacità di sviluppare il settore sportivo. Cioè quindi dare un contributo a quella che è l'attività sportiva del territorio, quando lo sport svolge un ruolo fondamentale all'interno di una società. Perché ha un ruolo prima di tutto educativo, secondo formativo, perché insegna quelli che sono i valori fondamentali, come il rispetto ad esempio, e ha anche un ruolo importante in termini di salute, perché fare sport, e questo ce lo dicono tutti i migliori medici, ha anche un effetto positivo sulla salute. Questo indubbiamente andrebbe ad agire sulla riduzione della spesa pubblica. Quindi è evidente che puntare sullo sport è una scelta assolutamente vincente per un'amministrazione comunale. Siamo sicuri che la Balzani, anche in virtù della sua passata esperienza nell'ambito sportivo, sia la persona giusta per far sì che lo sport possa tornare a svolgere un ruolo da protagonista all'interno della città di Forlì. E soprattutto siamo sicuri che la Balzani saprà anche insegnarci la strada giusta per far sì che si possa accedere a quelli che sono gli strumenti esistenti per migliorare l'impiantistica sportiva. Altro grande problema che abbiamo nella nostra città, perché purtroppo Forlì, anche se in passato è stata fiore all'occhiello per alcuni sport come l'atletica, oggi veramente non ha degli impianti sportivi degni di essere definiti tali. E quindi sicuramente questo dovrà essere uno dei punti, sarà uno dei punti, sul quale io e penso anche il nostro sindaco, perché sicuramente sarà il nostro sindaco, punterà in ambito sportivo.